Donna e uomo. La donna spesso, pur da mare, sacrifica orgoglio, agiatezza, onore, vita. L'uomo invece sacrifica spesso l'amore all'orgoglio, al denaro, all'onore. Non è così? Commento. Non è importante che lo sia, perché ognuno si incarna come uomo e come donna a seconda delle esperienze di cui ha bisogno per la sua evoluzione.